Musica Leggiamo questi versetti, Colossessi 2 dal versetto 1 fino al 4 e poi salteremo all'8. Dice la parola di Dio, anzi devo dire così, dice lo Spirito Santo attraverso Paolo voglio infatti che sappiate quanto grande sia il combattimento che sostengo per voi, per quelli che sono all'audicea e per tutti quelli che non hanno visto la mia faccia di persona. In sostanza erano sconosciuti all'Apostolo Paolo affinché, questo è lo scopo, i loro cuori siano consolati essendo essi uniti insieme nell'amore ed ottengono tutte le ricchezze della piena certezza di intelligenza per la conoscenza del mistero di Dio e Padre e di Cristo. Cosa che vi posso dire è che io prima quando leggevo e mi rendo conto che se c'è qualcuno nuovo in mezzo a noi o da poco tempo risultano complicate per la nostra mente. Io le leggevo e le rileggevo perché volevo trovare un filo, ma il problema è che il filo sta nel conoscere Cristo. Quello ti dà il filo. Continuiamo un attimo perché voglio aiutarvi. E in cui sono nascosti, in Cristo sono nascosti, quindi dobbiamo trovarli, i tesori, tutti i tesori della sapienza e della conoscenza. Or questo dico affinché nessuno vi inganni con parole convincenti. Versetto 8, guardate, dice l'Apostolo Paolo, che nessuno vi faccia sua preda con la filosofia e con vano inganno, secondo la tradizione degli uomini, secondo gli elementi del mondo e non secondo Cristo, poiché in Cristo abita corporalmente tutta la pienezza della Deita. Amen? Abita corporalmente. Amen? Allora, noi siamo stati chiamati a combattere. Di solito non si combatte per le persone che non conosciamo. Noi preghiamo per i missionari, non li conosciamo. Noi preghiamo magari per le autorità, ma mica le conosciamo. Sappiamo solo chi sono tramite la TV. Conoscere significa mica andiamo a cena con loro, usciamo con loro, sappiamo i fatti loro o abbiamo una confidenza. Perché conoscere significa questo, avere una confidenza con le persone. Paolo lottava per la Chiesa, per coloro che credevano in laudice, in questa città. non li conosceva, ma pregava per loro. L'apostolo Paolo aveva un cuore straordinario per l'evangelizzazione, per l'insegnamento, affinché l'opera di Dio crescesse e andasse avanti. E voleva in tutti i modi sostenere l'opera del Signore. L'opera del Signore. Questo ci fa vedere come quest'uomo aveva una visione chiaramente apostolica, larga. E allo stesso tempo ci invita, come abbiamo anche udito prima, ad avere una visione più larga, meno limitata. E a vedere più in là come saranno i nostri figli, come sarà la relazione con mia moglie, con mio marito, come cresceremo insieme. Perché man mano si cresce e si invecchia insieme. È un percorso di vita. E se vediamo, e se cominciamo ad allargare, a pregare per quello che sarà, noi stiamo preparando il terreno per i giorni che dovremo affrontare insieme. Comprendete com'è importante pregare per i figli, per i nipoti, per la moglie, per il marito? Perché noi dobbiamo metterci come sulla breccia a pregare, a intercedere per quello che verrà, a combattimento. Noi di solito siamo abituati a considerare il presente. Oggi sto bene, va tutto bene, Dio è buono, Dio mi ama. Ma domani, se hai preparato domani nei piani di Dio, tu affronterai domani, anche se non andranno le cose bene, ci saranno delle difficoltà, ma avrai arato il terreno, avrai preparato il tuo cuore, avrai chiesto al Signore di anticiparti nei luoghi dove dovrai andare. Signore, ti prego per il lavoro, ti prego per stamattina, ti prego per i miei figli a scuola. Il combattimento che noi dobbiamo fare è proprio quello di rappresentare al Signore le nostre istanze e non darle per scontato. Io so che il Signore mi ama e so che il Signore mi benedirà, ma non per questo smetto di pregare, ma non per questo io smetto di chiedere al Signore, non per questo io non smetto di chiedere al Signore di proteggerci dal Covid, da me, o di proteggerci da... vuoi vedere che c'è solo il Covid adesso? Ci sono tante malattie, Signore, ti preghiamo e ti ringraziamo e donaci forza di affrontare il domani, il domani e ti prego, Signore, e ti prego di preparare, di considerare, Signore, di avere pietà per ciò che faranno i miei figli e per i miei nipoti, ad avere un combattimento largo, va bene? Perché lo sto inquadrando come a dire per i giorni che verranno, per i giorni che verranno. I giorni che verranno, la Bibbia ci dice che non saranno tanto facili, verranno, dice in Timoteo l'Apostolo Paolo, che verranno dei momenti veramente molto complicati, ancora più di quelli che abbiamo vissuto. Quindi chi è preparato, sapete come chi è preparato, sarà pronto ad affrontare. Tanto è vero che Paolo usa un linguaggio militare, è un militare l'Apostolo Paolo nell'inquadramento dell'Evangelo. Dice prendete l'armatura, a Timoteo dice chi va alla guerra non si interessa di tante cose, preparatevi al combattimento, prendete l'elmo, prendete la spada. Cioè lui inquadra le attrezzature spirituali come un qualcosa di militare. Perché il militare? Perché all'epoca la visione dell'Apostolo Paolo era inquadrata sui militari romani. E l'esercito romano era molto più potente degli eserciti che stanno oggi. Ha dominato per 800 anni, nessun impero è durato tanto, perché avevano una disciplina fortissima. Militarmente, se voi a volte avete seguito dei documentari, erano militari sul serio, attrezzati, equipaggiati, non facevano prigionieri. Erano schiavi i prigionieri, non avevano nessuna possibilità. Ed erano così forti che quando andavano in battaglia avevano una struttura che la prima linea, quando si stancava, arretrava e interveniva la seconda. Camminavano a testuggine, per quell'epoca erano come dei carri armati. Ed ecco che riuscivano a vincere e a dominare militarmente tutte le terre che allora, dove potevano arrivarci in Germania, in Inghilterra, fermarono l'avanzata dei barbari fino a quando la corruzione non cominciò dall'interno e l'esercito venne meno. Ma quello che voglio dirvi è che Paolo vedeva la militarizzazione della fede di conseguenza a quello che aveva visto nell'esercito romano. E quindi diceva ai discepoli, diceva alle chiese, a Nefesini 6, di armarsi, di combattere, di essere chiamati a credere che nel combattimento non c'è un qualcosa che presentiamo solo una volta, Signore, ma che costantemente, ripetutamente, con pianti, con lode, con gioia, con tutto quello che voi volete, noi combattiamo davanti al Signore. E c'è anche un altro tipo di combattimento che noi affrontiamo quotidianamente. Ricordatevi, combattere è una scelta. Tu puoi dire sì a tutti e non combatti mai, o puoi dire bugia a tutti e non combatti mai, o ti puoi stare zitto e non combatti mai. Il combattimento tu lo scegli perché l'Apostolo Paolo e anche Gesù ha combattuto, no? Gesù ha combattuto contro Satana, contro i religiosi dell'epoca, i farisei, i sadducei, Gesù ha combattuto contro i discepoli perché i discepoli non capivano, è un tipo di combattimento diverso. Gesù ha dovuto combattere per la famiglia sua e dire alla sua famiglia che sono prima quelli che fanno la volontà di Dio. Gesù ha combattuto fino alla fine. Amen. Ma perché Gesù stava sempre in trincea, sempre pronto. Quando scendevano, cioè quando si svegliava, quando dormiva, così l'Apostolo Paolo, così i figlioli di Dio, non è che noi andiamo a fare una scampagnata, noi siamo preparati, siamo cristiani. Automaticamente le attrezzature dovremmo già averle pronte, dovremmo comprendere che nella nostra vita noi affronteremo in qualunque istante, in qualunque momento ci possiamo trovare in un combattimento. Possiamo esprimere la nostra opinione, se ci viene chiesta, oppure annunziare l'Evangelo. E vi posso già dire una cosa molto semplice. Siccome Dio ha messo in imicizia tra il diavolo e la donna, ossia ha messo in imicizia nel cuore dei credenti, Satana è a prescindere contro di te e contro tutti coloro che credono in Dio. Quindi c'è un'inimicizia nel momento stesso che tu manifesti la tua fede, devo dirti che è cominciata la guerra, comincia la guerra. Perché c'è un'inimicizia, non è possibile, c'è uno scontro. E quindi tu stai cominciando a combattere. E possiamo usare diverse strategie. Quello che voglio dirvi questa mattina è che, fratelli e sorelle, la Bibbia, la parola di Dio, Gesù stesso, ci insegna a combattere. Vi farò un esempio sulla lettura, perché abbiamo parlato della lettura. La lettura è qualcosa che per chi non è abituato, per chi non è avezza a queste cose, è difficile, è un momento complicato. Quasi si cercano le scuse. Ma devo lavare i piatti, ma devo stendere i panni, ma devo rispondere a quest'amico. Però l'attitudine bene o male ce l'abbiamo tutti, anche perché molti l'hanno esercitata attraverso l'iPhone, attraverso tutti i messaggi. Il problema è che quando noi leggiamo la parola di Dio, i libri del Signore, devi comprendere questo. Il diavolo in quel momento, le tenebre in quel momento, cominciano a dire no, non leggere quel libro. E ti farà trovare tutte le scuse, le telefonate per non leggere quel libro. Ti dirà, ti farà in qualche modo, sentirai noia, sentirai le scuse, ti attira la TV, ti attirano tutti, ma non ti attira quello. A questo punto devi domandarti, Signore, ma ti amo veramente? Signore, ma tutto questo che sento sono scuse che sto dicendo a me stesso. La vera scusa è che io non ti amo abbastanza, perché se ti amo abbastanza tu non mi puoi stancare. Io vengo attirato da te. Tu da chi vieni attirato, scusami, dalle persone che ami? Non ti stanchi mai di le persone che tu ami. Non ti stanchi perché le ami, ti piace guardarle, ti piace ascoltarle, ti piace sentirle, ti piace contemplarle, ti piace stare con loro. E che è normale perché ti piace stare con loro. È un piacere, io amo questa persona, sto bene con lui, con lei. È vero, è tutte le cose che tu ami fare. Allora la domanda è, la prima, ti incoraggio, proprio ti incoraggio con tutto il cuore, proprio queste voci che senti, questa sorta di qualcosa che ti vuol portare via. Quando viene il momento, scegli il momento durante la giornata, fai come faceva Vittorio Alfieri. Vittorio Alfieri voleva studiare, ma per non farsi distrarre di suo servo una cosa. Disse, mi devi legare alla sedia. Così, mi devi legare, è un fatto storico, mi devi legare alla sedia, in modo che io rimango davanti a questi libri, rimango davanti a questi libri, e anche se ti chiamo non venire, devi venire dopo due ore, dopo due ore. E lui rimaneva legato, e lui, ora, quando sei legato, che devi fare? La giornata come passava? La devi leggere per forza. Allora devi comprendere che la prima cosa è anche questo combattimento, lo vinci con un appello alla tua volontà, alla voglia tua di conoscere Dio, sapendo che quello che tu stai facendo stai seminando nel tuo cuore il bene e che stai preparando un combattimento per domani. Quando tu leggi la parola, ogni giorno, ogni giorno tu sei forte, perché ella ti fa bene all'anima. L'Apostolo Paolo sceglie di combattere e prega per questi cari, ma prega in un modo, ha uno scopo nella preghiera. Non prega perché loro vengano guariti dalle malattie o per oro, perché loro facciano chissà che cosa, ma lui prega, guardate, vi voglio dire lo scopo per cui prega. Prega perché i loro cuori siano consolati, perché i loro cuori abbia, siano pieni di consolazione. E io prego questa mattina che ognuno di voi che è presente o che mi sta ascoltando possa uscire da questo luogo con il cuore consolato. La Chiesa è il luogo della consolazione, è il luogo dove i nostri difetti vengono affondati dall'amore di Dio. A me il tuo difetto, fratello, sorella, amico, non mi interessa, l'amore di Dio è più grande. Questo significa dare un bel, come dire, rendere la Chiesa il luogo di consolazione. E poi, essendo uniti insieme nell'amore, quindi significa, Paolo prega, lo Spirito Santo desidera che noi siamo uniti nell'amore di Dio. Amen? Tu, l'amore di Dio è quello che ci distingue dagli altri, è quello che ci insegna a perdonare, è quello che realizza l'ubbidienza a Dio, perché se non ami il Signore tu non potrai mai ubbidire. L'amore di Dio è il motore dell'ubbidienza, è il motore per perdonare, è il motore per sopportare, è il motore per vincere, è il motore per essere ogni giorno, ogni giorno nella grazia di Dio, l'amore di Dio, l'amore di Dio. È vero, ti insegna a tante, a come rispondere, a come inquadrare, a come vedere, a come, a come andare avanti e soprattutto ad amare chi è impossibile da amare. Amen? Allora, perché così Gesù ha fatto con noi e poi chiede affinché ottengano le ricchezze della piena certezza di intelligenza e della conoscenza del mistero di Dio. Ora, mistero di solito significa segreto. Qual era il segreto? Il segreto dall'antichità era uno solo, Cristo, Gesù Cristo è il Signore che è venuto, che nella pienezza dei tempi è mandato. il mistero di Dio, il segreto di Dio era il suo figliolo Gesù Cristo che ci è stato rivelato, che non è solo per il popolo ebreo, ma è per tutto il mondo, perché sulla croce lui è stato il sostituto, il tuo sostituto, il peccatore, ha preso lui il tuo posto, ha preso lui, lui, il figliolo di Dio, e lui era il mistero rivelato, il mistero rivelato, ciò che era chiuso in un segreto, Dio l'ha rivelato, l'ha rivelato affinché questo mistero non fosse più un mistero, ma fosse una verità alla portata di tutto il pianeta, di tutti coloro che si avvicinano a Dio, perché sanno che l'unico, guardate fratelli, voglio spiegarvi una cosa, l'unico Salvatore è Gesù, Gesù lo chiamano il Salvatore, avete sentito questo libro, non vi meravigliate, e Salvatore, dirò qualcosa che dovete comprendere, nella magnifica Trinità, nell'eccellenza della Trinità, ricordatevi una cosa, l'amore di Dio, vero, la consolazione dello Spirito Santo, ma Gesù è il Salvatore, perché se ti fermi sull'amore di Dio, non comprendi il sacrificio di Gesù, se parli dello Spirito Santo, non comprendi il sacrificio di Gesù, Gesù è l'unico Salvatore, Gesù è il Signore, Gesù è perfetto, Gesù ha detto io sono la via, la verità e la vita, e la concentrazione nostra deve essere su di Lui, riesci a vedere Gesù, uomo, che muore per te, non lo devi divinizzare, perché corporalmente abita in Lui tutta la Deità, in Lui c'è tutta la divinità, riesci a vedere che Gesù era vero uomo, vero Dio, riesci a vedere che Lui si è sostituito a te, riesci a vedere questo, riesci a vedere che il figlio di Maria che è uscito da un utero come se è uscito tu, riesci a vedere che Lui è il Signore e che nonostante avesse due occhi, una testa, due orecchie, un corpo come noi, uguale a noi, piedi, gambe, in tutto, era vero uomo, vero Dio, perché se lo riesci a vedere allora vuol dire che hai avuto un miracolo nella tua vita, hai capito che è il Dio dell'universo perché dov'è la manifestazione del mistero di Dio? Io ho preso un solo versetto, ce ne sono tanti, in Prima Timoteo capitolo 3,16 è senza alcun dubbio grande il mistero della pietà, Dio è stato manifestato in carne, l'amore di Dio è che si è manifestato il suo figlio in carne, questo è un miracolo straordinario e se afferriamo questo noi comprendiamo l'eternità che c'è nel miracolo di Gesù e le cose che dovremo affrontare o che stiamo affrontando non ci faranno paura fratelli perché la paura ti lega, il diavolo gode nel vedere i figli di Dio impauriti, fratelli la paura è un sentimento è una virtù che il Signore ci ha dato che ci serve ad avere prudenza ma non essere schiavi non essere schiavi la paura mi segna essere prudente non corro con l'auto non corro con la motocicletta non mi faccio i tuffi da 20 metri in mezzo agli scogli non faccio le cose incredibili la paura mi serve ma nel momento stesso che mi arriva il panico questa non mi serve questo mi paralizza ho panico di questo ho panico di questo questo no questo no questo non deve permettere che venga nella nostra vita dobbiamo avere fiducia in Dio e dobbiamo credere in questo che vi sto leggendo senza alcun dubbio grande il mistero della pietà Dio è stato manifestato in carne è stato giudicato è stato giustificato nello spirito è apparso agli angeli è stato predicato ai gentili è stato creduto nel mondo è stato elevato in gloria questo è il nostro Signore Gesù Cristo amè ora fratelli voglio terminare dicendo una breve cosa Paolo scrive all'Odissea perché nella chiesa di l'Odissea che era di cultura greca c'era una certa filosofia e dice non fatevi prendere i davanti ragionamenti la fede è semplice è credere in Cristo è credere che lui sia morto per te è applicare gli insegnamenti di Cristo alla tua vita questo significa essere cristiani è così è così semplice che sembra quasi diservente non devi andare a fare nessun pellegrinaggio non devi pagare nessun pegno non devi offrire nessun montone capretto o chissà quale somma di soldi non si compra la salvezza la salvezza è un dono di Dio in Cristo Gesù questo è quello che l'uomo non riesce ad accettare io sono salvato perché Cristo è morto per me e anche se sono buono adesso lo devo a Cristo che ha trasformato la mia vita amè e allora l'audicea c'erano queste filosofie come ci sono ancora oggi quanto è opposizione a Gesù e quanto è opposizione alla sua parola chi ha scritto la Bibbia che cos'è la Bibbia addirittura il romanesimo fatemi dire questo fratelli dice che per leggere la Bibbia ci vuole l'interpretazione della Chiesa quindi mette si mettono l'oro la Chiesa romana a fianco alla parola del Signore ma non sarebbe a loro per tutti la parola di Dio perché tu puoi leggere la scrittura e puoi essere sicuro che se ami il Signore e la leggi con il cuore Dio ti rivelerà quello che tu puoi capire gloria sì il Signore non ti chiede di capire più di quanto tu possa Dio è buono anche per questo Dio è buono Dio è buono significa il trattato il trattato che ha in mano la parola del Signore non necessita che tu comprenda tutti i misteri perché neanche io li ho capiti e neanche il più grande uomo di Dio li ha compresi perché il mistero sarà alla fine rivelato di Dio quando tornerà Gesù Cristo ma quello che tu capirai sarà sufficiente a camminare nelle vie giuste del Signore questa è la bontà di Dio che si rivolge a tutti a tutti allora fratelli c'erano queste filosofie quindi c'era una preoccupazione ed è veramente particolare che noi troviamo nella settima lettera scritta dell'Apocalisse la chiesa di Laodicea è particolare che ha gli stessi problemi è solo che lo Spirito Santo guida Giovanni a dire io ti consiglio di comprare da me del collirio allora questo per dirvi come lo Spirito Santo parlava a Paolo come lo Spirito Santo parla a Giovanni come affrontano i problemi nella chiesa di Laodicea e per dirvi di come il Signore perché ho terminato perché il Signore manda una lettera alla chiesa di Laodicea perché nella Bibbia è scritto così la risposta è una sola è molto semplice perché Dio ama la sua chiesa Dio ci ama Dio ama questa chiesa ama anche le altre chiese quindi noi portiamo rispetto e amore per le altre chiese e se andiamo a trovare altre comunità amiamo quei fratelli come sono 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 i nostri fratelli Dio ama la sua chiesa e scrive alla sua chiesa come a un'innamorata perché il Signore Gesù è innamorato di ognuno di noi Amen allora ricordate combattiamo per Gesù sempre fratelli e sorelle Gesù ha detto io e il Padre siamo uno che meraviglia That's gesù ha detto è innamorata Grazie a tutti.